Barletta indomabile e a punteggio pieno al San Sabino di Canosa la compagine di Mister Farina contro il San Severo prima va in svantaggio poi rimonta portando a casa i tre punti rimarcando così tutta la sua qualità. Il primo tempo si sblocca al diciottesimo la matrice trova Garcia che insacca la rete dell'1-0 per i Foggiani. La reazione del Barletta arriva al ventiseiesimo con la Vopa che apparecchia per la conclusione di Vicedomini. Carella è attento e disinnesca il tentativo. Biancorossi che ci credono e l'opportunità giusta arriva al trentacinquesimo punizione dal limite alla battuta Vicedomini che disegna una traiettoria imprendibile e 1-1 al San Sabino. Al trentottesimo sulle ali dell'entusiasmo Pignataro cerca la sforbiciata palla che termina alta. Il primo tempo si chiude in parità. La ripresa si apre con l'assedio del Barletta. Al quarto minuto corner di Vicedomini e colpo di testa di Pollidori che termina sul fondo al sesto cross di Russo. Entrato ad inizio secondo tempo al posto di Altares per la testa di Morra che non riesce ad angolare. Parata semplice per Carella. È solo questione di tempo. Ottavo minuto di gioco cross di Cafagna che trova l'impatto aereo vincente di Pignataro e 2-1 Barletta rimonta completata per i ragazzi di Farina. Sansevero che non riesce a reagire. I padroni di casa gestiscono il risultato da segnalare al quarantacinquesimo il tiro cross di Morra sul quale Cafagna non riesce a trovare la deviazione. Lo stesso Morra poco dopo imbeccato da Vicedomini manca la terza rete facendosi ipnotizzare da Carella. Al quarantottesimo poi ecco il tris del Barletta con Milella che chiude definitivamente i conti e mette in cassaforte i tre punti. Barletta che viaggia con 9 punti in classifica a pari merito con il Corato. Il Sansevero resta a 6 punti.